In questo senso, quindi prendiamo atto che non vi sono obiezioni, saluto il dottor Stefano Da Empoli, presidente di ICOM, accompagnato dalla dottoressa Silvia Compagnucci, che mi sembra di non vedere, dal dottor Federico Girolamo Lioi, direttore pubblica ferdi ICOM. Cedo quindi la parola ai nostri ospiti per direi dieci minuti, in modo da consentire ai colleghi che vogliano di interagire. Grazie mille presidente, grazie per l'attenzione agli onorevoli e grazie per questa opportunità. Noi siamo appunto un FinTech con base principale a Roma e anche una base europea e quindi questo ponte, diciamo, tra Italia ed Europa, insomma, c'è particolarmente congeniale. C'è congeniale su questo tema, nello specifico abbiamo un osservatorio sulla cibersicurezza ormai da alcuni anni e quindi ci faceva piacere portare, insomma, alcuni risultati dei nostri studi più recenti sul tema che naturalmente possono essere di interesse rispetto all'esame della comunicazione e la politica di ciber difesa dell'Unione Europea. In particolare su cinque punti sui quali volevamo soffermarci, che sono richiamati nella comunicazione, il tema della solennità tecnologica, il tema, diciamo, degli svolti economici e, diciamo, la spesa in sicurezza informatica, il tema delle competenze, il tema delle certificazioni e qualche ragionamento, insomma, finale sulla normativa italiana. Quindi cerco di dare, ovviamente, dei brevissimi flash, poi naturalmente abbiamo una memoria abbastanza lunga che vi trasmetteremo, insomma, nelle prossime ore, insomma, al massimo domani, nella giornata di domani. Sovranità tecnologica, fermo restando che l'Unione Europea, a nostro avviso, insomma, accogliamo anche con favore questa comunicazione, così come i diversi interventi di questi ultimi anni, alcuni di quali ancora in discussione, mi riferisco in particolare la Cyber Resilience Act, ma naturalmente ci sono, insomma, altri provvedimenti in via di discussione e altri, come dire, altri elementi che stanno prendendo finalmente quota, insomma, potremmo dire, insomma, a livello europeo. Quindi bene, riteniamo, poi con qualche piccolo ragionamento, insomma, in conclusione sulle regole. Se guardiamo al grado di avanzamento tecnologico, ecco, qualche timore in più lo segnaliamo, nel senso che se si vede, ad esempio, il numero dei brevetti su tematiche, diciamo, afferenti alla cybersicurezza, mi riferisco, quindi ai brevetti, insomma, riguardanti le telecomunicazioni, ai brevetti riguardanti l'informatica, a quelli riguardanti tecnologie collegate, insomma, come ad esempio l'intelligenza artificiale e qui vediamo chiaramente un grado di ritardo variabile, ma comunque di ritardo si tratta dell'Unione Europea nei confronti di altre aree del mondo. In particolare, diciamo, sulle telecomunicazioni c'è un ritardo dell'Unione Europea nei confronti della Cina. Sull'informatica, insomma, un grave ritardo, insomma, nei confronti, in particolare, degli Stati Uniti. E quindi questo, insomma, è un primo elemento da sottolineare, appunto, poi abbiamo tutta una serie di grafici, insomma, elaborazioni che abbiamo fatto nella memoria e che, insomma, sono abbastanza chiare, insomma, sotto questo profilo. Appunto, per darvi semplicemente, insomma, un numero, se guardiamo ai brevetti registrati in ambito telecomunicazioni, nel 2020, insomma, l'ultimo anno disponibile, insomma, l'Unione Europea vale meno della Corea del Sud, l'Unione Europea nel suo insieme, questo per darvi così un numero. Ma ce ne sono, appunto, ce ne sono, però, se ne sono tanti, insomma, da citare. Tra l'altro qui c'è anche un tema non solo di ricerca, quindi brevetti o comunque, insomma, innovazione a uno stadio, diciamo, preliminare. C'è anche un tema di deployment. Se guardiamo al 5G, ad esempio, che ovviamente è molto correlato, insomma, ai temi della cibersicurezza, anche qui l'Europa è molto indietro, insomma, in particolare rispetto all'Asia, rispetto in particolare a Cina e Corea del Sud. Per quanto riguarda la spesa in sicurezza informatica, a causa, insomma, dell'aumento degli attacchi, piuttosto esponenziale, è aumentata in maniera significativa, insomma, quindi i numeri che vediamo, insomma, a livello europeo e l'Italia, diciamo, non fa eccezione, lo testimoniano, anche se probabilmente, insomma, ci sono ancora dei margini, in particolare rispetto alle piccole e medie imprese e rispetto alle pubbliche amministrazioni. Qui non c'è solo un tema finanziario, insomma, di spesa e qui passo quindi rapidamente al terzo tema che volevo sollevare, evidentemente c'è un tema di competenze, per certi versi ancora più importante e, insomma, difficile da risolvere nel breve periodo, ma sul quale occorre lavorare, insomma, con grande forza. Certamente c'è una carenza molto significativa, insomma, in Italia come nel resto dell'Europa di specialisti e quindi di fatto, insomma, c'è un mismatch tra domanda e offerta. Qualche segnale, diciamo, positivo nel nostro monitoraggio, insomma, effettuato dal nostro osservatorio sulla cibersicurezza, sull'aumento del numero di corsi universitari e post-universitari su temi, appunto, di cibersicurezza, che sono passati nel nostro, diciamo, monitoraggio, nel nostro censimento da meno di 100 complessivamente, insomma, a livello italiano, a oltre 200, insomma, nel giro di un anno, diciamo, da gennaio 2022 a gennaio 2023, insomma, approssimativamente. Ora, ovviamente, questo è un dato meramente quantitativo, bisogna poi capire, insomma, anche dal punto di vista qualitativo, come poi questo si possa esprimere, insomma, in aumento, diciamo, dell'offerta di specialisti, insomma, in cyber security. Interessante, diciamo, anche il dato, cioè, come si compongono, insomma, questi corsi. C'è una parte, ovviamente, preponderante, insomma, ingegneristica, informatica. C'è però anche una parte abbastanza significativa in altre discipline, in particolare in legge, giurisprudenza, dove appunto abbiamo censito alcune decine di corsi attivati. con, anche qui, un po' macchia di leopardo rispetto al territorio italiano. Ci sono alcune regioni, questa, insomma, il Lazio, per ovvi motivi, ma anche, insomma, alcune regioni del nord, dove c'è una concentrazione, insomma, particolare di corsi, anche qui poi vi forniremo i dati, altre regioni dove un po', diciamo, per la carenza di istituzioni universitarie, un po', diciamo, per altri motivi, insomma, c'è una minore copertura, insomma, del territorio. Questi segnali positivi, che ovviamente ci fanno piacere, ma che naturalmente, insomma, non possono rappresentare la fine di un percorso, ma semmai, insomma, l'avvio di un trend positivo, è un avvio incoraggiante, insomma, di un trend positivo, che va sicuramente consolidato. Accanto, diciamo, a corsi universitarie e post-universitarie, ovviamente, il ruolo e gli ITS, e quindi la riforma, diciamo, degli ITS, è certamente un profilo, a nostro avviso, molto importante, che va, naturalmente, abbiamo la riforma, naturalmente va implementata nel più breve tempo possibile. Questo è un canale assolutamente centrale ed essenziale. Sul tema delle certificazioni, così, insomma, mi avvio rapidamente alla chiusura, che viene evocato, insomma, anche nella comunicazione, certamente un elemento da accelerare al massimo per garantire allo stesso tempo sicurezza e allo stesso tempo, come dire, anche l'innovazione tecnologica e la competitività, insomma, dell'Europa, è quello dei common criteria europei. C'è un percorso, insomma, che viene abbastanza da lontano, che dovrebbe portare, insomma, ai common criteria, all'adozione, diciamo, e all'implementazione dei common criteria europei, alla base, appunto, della certificazione, a nostro avviso andrebbe, appunto, accelerato al massimo, attraverso, diciamo, alcuni principi di base che ci sembrano di particolare rilievo, ad esempio, insomma, il testing one principle, per cui al produttore è consentito includere a un previo meccanismo di gestione delle patch, quindi di nuovi dispositivi, insomma, che vengono rivisti, insomma, o immessi, da analizzare con altre procedure di certificazione del prodotto e che consentono, diciamo, di, ovviamente, ottenere livelli di sicurezza elevati e al contempo, insomma, ridurre i costi per le imprese, anche qui avendo il pensiero soprattutto alle piccole imprese, insomma, ricordiamoci che il Cyber Resilience Act è standard di molto, ad esempio, nel futuro, insomma, quando sarà implementato il perimetro al quale si applicano, appunto, le certificazioni. Infine, sulla normativa italiana, qualche considerazione finale, sicuramente l'Italia ha sviluppato, insomma, in tempi abbastanza rapidi, con qualche ritardo, ma in tempi abbastanza rapidi, tutta la nuova, diciamo, nuova governance della cibersicurezza nazionale, in particolare con il perimetro e l'adozione del perimetro. Crediamo che a questo punto, anche qui, ci sia un tema, soprattutto, di sviluppo di competenze, sia competenze di base, sia competenze specialistiche, e un ruolo di coordinamento e di, diciamo, propulsione che deve essere giocato dal nostro viso, insomma, in particolare dall'Agenzia per la cibersicurezza nazionale. Ovviamente, con tutta una serie di attori, sia pubblici, sia privati, che occorre, diciamo, pienamente attivare nel rispetto, insomma, delle funzioni di ciascuno e dei ruoli di ciascuno. Quindi, ecco, questi sono i messaggi, diciamo, principali. Poi la memoria, insomma, è molto più ampia e, appunto, come detto, con piacere ve la trasmettiamo a breve. Bene, grazie Presidente. Lascio la parola al relatore. Prego, Giordano, Gruppo Fratelli d'Italia. Grazie, Dottor Daempoli. Le farò due domande che poi, ripeterò, si annoieranno i colleghi, ma, insomma, almeno abbiamo visto che abbiamo tre audizioni consecutive. Vediamo qual è la differenza tra le risposte. Allora, più o meno tutte le persone che sono state intervistate prima di lei ci hanno detto che l'Europa e il Sud America sono i posti dove c'è il maggiore sviluppo di attacchi. Il motivo per cui un posto può essere attaccato, io non ritengo che sia la stessa motivazione, perché il ragionamento per cui una casa può essere attaccata e che dentro ci sia molta ricchezza o che ci sia complessivamente una vulnerabilità, per cui tanto pare attaccare quella che è più vulnerabile piuttosto che un'altra, oppure un qualche tipo di interesse. Ne faccio la base per fare un'altra cosa. Quindi vorrei capire, secondo lei, la differenza che c'è tra le motivazioni degli attacchi in Europa e le motivazioni degli attacchi in Sud America e perché è diversa l'Europa rispetto ad altri continenti o altri stati. La seconda, noi abbiamo un ragionamento complessivo che diciamo ci vede coinvolti negli opposti schieramenti politici sul tema della sovranità in generale. Cioè chi è di centro-destra sostiene che la sovranità è un meccanismo anche per la tutela del bene della comunità più ampia. Nel caso, e quindi noi sosteniamo che la cessione di sovranità deve essere progressiva, mentre invece normalmente dall'altra parte c'è una tendenza verso una cessione di sovranità ideologica più complessiva. Nel caso specifico della sovranità digitale, pensare che l'Italia mantenga una sovranità digitale chiara e così anche gli altri Stati, è un valore rispetto alla difesa dell'Europa o un disvalore? Grazie, scusi dottore. Grazie redattore Giordano. De Monte, onorevole De Monte, Italia Viva. Grazie Presidente, tanto grazie per questa relazione. Io volevo fare alcune domande a proposito dell'intelligenza artificiale, perché so che lei è un esperto, ha scritto anche un libro in proposito, quindi approfitto della sua presenza, perché ovviamente è molto legata, cioè è uno strumento essenziale per combattere appunto gli attacchi cyber. Volevo chiedere un'opinione a proposito del nuovo regolamento che è in itinere adesso, perché dovrebbe arrivare, se non erro, alla prossima plenaria, non questa, la mini plenaria, ma la prossima ad una approvazione, quindi volevo chiedere una sua opinione in merito, posto che ovviamente abbiamo un primato mondiale, nel senso che l'Unione Europea, la prima realtà che è una regolamentazione in materia di intelligenza artificiale, immagino abbia seguito anche il relativo dossier. Per capire appunto la sua opinione, ma anche secondo lei se è un po' una chimera, nel senso se è un inseguimento che magari è un po' anche impossibile, nel senso quanto si può regolamentare rispetto alla evoluzione in realtà dell'intelligenza artificiale, perché poi alla fine noi, è chiaro, siamo uno Stato membro, quindi dobbiamo anche regolarci su questo, cioè capire come gestire questa potenzialità che è essenziale anche ai fini appunto della ciber difesa. E la seconda, quanto dobbiamo investire, perché io ricordo su Horizon 2020 c'era un miliardo e mezzo, non so nell'attuale programmazione, non sono aggiornata, però allora veniva definita come una cifra abbastanza irrisoria rispetto a quanto invece dovesse essere messo a livello europeo per investire in questo settore, perché poi in base a questo è chiaro che possiamo essere o meno competitivi, mi rendo conto che l'aspetto finanziario forse non è l'ultimo degli aspetti rilevanti, però se dobbiamo competere con i giganti, cioè quindi con gli Stati Uniti, con la Cina, ecco un'ultima domanda se mi posso permettere a che livello di concorrenza siamo, cioè la posizione degli Stati Uniti, la Cina, un tempo si diceva che la Cina era più avanti perché aveva realizzato lo sviluppo, diciamo così, dopodiché gli ingegneri più tecnici erano in realtà più forti negli Stati Uniti, non so se questa cosa corrisponde in realtà, ma anche capire un po' dalla sua esperienza, insomma dalla sua conoscenza, il livello di competizione in questo settore, perché chiaramente è essenziale per combattere questo fenomeno crescente della ciberdifesa. Grazie. Grazie De Monte. Bene, dottore, a lei la replica. Grazie Presidente, quindi inizio in ordine, da 9 ore di Giordano, le due questioni, provando a collegare anche le due questioni che mi ha posto, che credo insomma, in parte nella mia visione diciamo siano collegate, nel senso che io credo che una ragione di fondo per la maggiore permeabilità, non sono in grado di fare un confronto con il Sud America, onestamente diciamo la nostra analisi è più legata a un confronto Europa, tra paesi europei e semmai insomma Stati Uniti diciamo dall'altro lato o diciamo paesi che sono tendenzialmente più sviluppati. La nostra idea, diciamo la nostra interpretazione su questa permeabilità europea diciamo agli attacchi più sviluppata diciamo rispetto ad altre aree del mondo, credo che abbia a che fare anche con i temi insomma anche della comunicazione, cioè il fatto che finora ci sia stata poca, troppo poca cooperazione tra i diversi paesi europei e in generale insomma una sottovalutazione comunque del fenomeno, anche perché le politiche digitali lo sappiamo insomma hanno tratto una spinta molto importante diciamo dall'Europa e sulla, non che non ci fosse nulla, insomma pensiamo alla Nissa, intanto per avere un'idea, però a mio avviso solo negli ultimi anni insomma si è pensato di costruire una governance adeguata diciamo ai rischi che ci sono. Questa è una risposta. La seconda risposta è che l'Europa è più una terra di confine è un po' diciamo target diciamo di vari blocchi e anche insomma potenzialmente diciamo di potenze ostili più di quanto diciamo non lo siano insomma altre aree del mondo per varie ragioni. Quindi credo che principalmente insomma siano queste insomma le possibili risposte, poi insomma ci possono essere anche altri fattori. Qua appunto mi collego al secondo versante certamente centrale della sovranità nazionale. Anch'io credo insomma non ci debbano essere diciamo visioni ideologiche che impongano l'evoluzione o meglio la centralizzazione insomma di poteri insomma verso e di competenza insomma verso l'Europa. Credo però che in questo caso la cooperazione tra soggetti nazionali che ovviamente rimangono autonomi in quanto nazionali sia però molto rilevante insomma è una cosa non fondamentale. Quindi questo per quanto riguarda insomma la ciber sicurezza e la ciber difesa insomma nello specifico insomma. Quindi le competenze messe a sistema di diversi insomma soggetti di diverse agenzie credo diciamo possano essere un fattore in più insomma non un fattore in meno e comunque diciamo non particolarmente insomma invasive della nostra sovranità nazionale. Certamente ci confrontiamo insomma con aree del mondo che sono molto più grandi di ogni singolo stato insomma e quindi questo credo sia un elemento che nel digitale insomma pesi ancora di più che in altri settori. Venendo all'intelligenza artificiale che è appunto una delle aree dove appunto si sente maggiormente insomma questo gap di competitività che nasce in gran parte insomma da un gap di investimenti. Se noi vediamo insomma le competenze da dove vengono i top scientist che lavorano sull'intelligenza artificiale vediamo l'Europa è perfettamente competitiva. Peccato che poi ecco noi non riusciamo a trarre top scientist visto da altre aree del mondo e tendenzialmente li perdiamo in numero importante non solo verso gli Stati Uniti ma anche gli UK anche insomma altri altri paesi ecco se citiamo nelle top 25 organizzazioni a livello di ricerca nel mondo ci sono quattro istituzioni europee due peccato che due siano in UK e due siano in Svizzera quindi diciamo l'Europa l'Unione Europea ne ha zero. Quindi questo ci deve far pensare se si guardano gli investimenti c'è una differenza enorme in particolare nei confronti degli Stati Uniti ma anche nei confronti della Cina. Sul primato tecnologico credo insomma che anche la vicenda dell'AI generativa insomma ovviamente si sta molto parlando in queste settimane e in questi mesi ci mostra come incontrovertibilmente gli Stati Uniti siano ancora oggi insomma pienamente leader diciamo almeno in questa tecnologia, in questa famiglia diciamo di tecnologia insomma che è l'intelligenza artificiale. Certamente insomma rispetto all'Europa insomma la Cina ha dei vantaggi insomma ha delle grandi imprese che noi sostanzialmente non abbiamo, abbiamo insomma una misura più marginale, abbiamo imprese tecnologiche e poi come è noto insomma una base dati diciamo nettamente superiore insomma rispetto alla nostra con i provi contro diciamo per altri versanti che sono facilmente immaginabili. Detto questo credo che l'Europa abbia tutte le risorse umane per potercela fare. Ovviamente siamo in ritardo e non è facile recuperare insomma questo ritardo, però questo non deve insomma scoraggiarci dal provare insomma a farlo, credo che sia una cosa fondamentale. Ah sul regolamento, sì sì sì, mi scusi. Allora il regolamento secondo me la regolazione deve essere una regolazione dei principi perché altrimenti appunto poi il rischio è quello di inseguire l'ultima innovazione. Devo dire la verità, io sono un economista insomma, sono un giurista però ovviamente insomma mi interesso di temi insomma di regolazione. Cioè lei è generativa, è stata del tutto bucata insomma dalla prima versione, perdonate il termine poco istituzionale, dalla prima versione del regolamento, la proposta della Commissione europea e infatti poi in questi mesi si è cercato insomma un po' alla disperata insomma di trovare il modo di considerarla all'interno, già da un po' nel dibattito parlamentare però la proposta della Commissione di fatto non la considerava neppure. Pensava, aveva un'idea di intelligenza artificiale molto verticale insomma quindi su singoli campi di applicazione insomma e questo per dare l'idea che è molto importante la regolamentazione, è molto importante una regolamentazione che guardi ai principi e quindi sia flessibile rispetto poi alle applicazioni concrete. Bene, allora direi che possiamo considerare conclusa l'audizione e ringraziare i vostri ospiti. Grazie. 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 Grazie Presidente sull'ordine dei lavori. Le audizioni sono molto importanti e è giusto anche ed è importante acquisire informazioni che possono essere rilevanti e possono essere anche sensibili all'interno ovviamente dei temi che stiamo trattando quindi a livello preliminare mi sento di condividere con i colleghi se non vi è obiezione anche la facoltà eventualmente per il nostro relatore di chiedere in qualsiasi momento dell'audizione di poter procedere in seduta riservata. Grazie. 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 tutta la mia vita lavorando in lingua inglese e francese, quindi ogni tanto mi trovo a corto di termini. Comunque, sono qui per presentarvi un po' della mia esperienza. Io ho lavorato all'interno delle Nazioni Unite per circa 30 anni, 33 anni e soprattutto negli ultimi 20 anni ho avuto ruoli da dirigente e sono stato dalla parte ricevente di attacchi, cyber attacks gestite da entità statali o parastatali e quindi penso che la mia esperienza possa essere utile per il tema di questa commissione. Una breve introduzione, se riuscite a vedere forse sul vostro monitor lì. Mi sa che non ce la fa. Sì, è acceso. No, ecco, perfetto. Allora torno un attimo indietro. Ecco. Dunque, dal 2005 sono stato un dirigente responsabile di operazioni di un centro all'interno delle Nazioni Unite che condivideva una grossa fetta dell'informatica delle Nazioni Unite. Circa 35 passagenzie, 5 data centers passi per il mondo. Ora le Nazioni Unite normalmente non hanno dati confidenziali di base perché sono organizzazioni pubbliche, però ci sono lavori in corso che sono in stato confidenziale. Poi hanno agenzie come l'agenzia atomica, l'OMPI, proprietà intellettuale, l'organizzazione dei rifugiati, che poi parleremo dopo. E quindi grossa quantità di concentrazione di sistemi con interessi e con dati che potevano essere interessati dai vari governi. Dal 2012 poi sono passato direttamente all'organizzazione dei rifugiati dove idem inizialmente avevo un ruolo di autorità tecnica, poi immediatamente mi hanno dato responsabilità operazioni e cibersicurezza. E idem, grande struttura, 600 uffici sparsi per il mondo, 17 mila dipendenti, una ventina di migliaia di altre persone che entravano e lavoravano insieme a noi come partner. Diciamo la chiave è che l'organizzazione dei rifugiati ha l'anagrafe dei rifugiati e quindi normalmente purtroppo rifugiato per un paese tende ad essere anche considerato un terrorista, un dissidente per un altro paese e quindi subivamo tutta una serie di pressioni. Io partirei per farvi capire un po' la sequenza dei tipi di attacchi e per questo farei un'analogia che penso che sia rilevante. Prendiamo un'entità parastatale che vuole attaccare un'infrastruttura elettrica italiana. Puntiamo per esempio a Montalto di Castro. C'è una ditta, una piccola e media impresa che è responsabile della manutenzione dei sistemi tecnici, informatici di mutato di Castro. È tipico che spesso queste cose vengono sternalizzate. Questa ditta è convinta, ha fatto il suo necessario, ha una porta blindata per analogia, dove all'interno di questa porta blindata tiene tutti i dati sensibili. Chiaramente ci si concentra sul fatto che l'accesso viene dato tramite un lucchetto, gli utenti hanno una chiave, hanno la password e fin qui tutto abbastanza tranquillo. Chiaramente se il lucchetto viene manomesso la gente entra. Infatti la tendenza e anche le varie audizioni che ho seguito adesso sono sempre concentrate sulla tecnologia, sull'aspetto tecnologico, sulla capacità del lucchetto di non avere difetti e di resistere agli attacchi. Ma se uno guarda attentamente quello che ha questa azienda, per analogia uno vede che sì c'è la porta, però a fianco la porta non è realmente tanto solida. Questa è la realtà, la maggior parte dei sistemi informatici non sono realmente forti. Poi magari c'è una finestra che uno non prende in considerazione, ma nella finestra c'è un semplice vetro che è facilmente apribile. In molte situazioni addirittura c'è il lucchetto, c'è la porta blindata, ma manca anche un pezzo di muro. Quindi è facilmente passabile intorno. L'altra cosa fondamentale che molta gente non si rende conto è che l'informazione purtroppo oggi non sta all'interno dell'azienda. Se voi avete un'email che ha un allegato confidenziale e quell'email sta sul vostro telefono o sta sul vostro computer, non è più all'interno dell'azienda, è solamente protetta da criptatura, che molto spesso non è assolutamente a quello stesso livello. Se per esempio Whatsapp, sì, le comunicazioni via Whatsapp sono criptate, ma il backup non lo è. E quindi ogni volta che uno fa un backup di Whatsapp effettivamente è facilmente intercettabile quel tipo di informazione. E per questa situazione la maggior parte degli attacchi, in mia esperienza personale, ma queste sono statistiche, avvengono tramite il veicolo umano. Cioè è l'utente che o viene preso, la sua identità viene rubata, viene impersonato, oppure è un utente corrotto, colluso, spesso o un infiltrato. Queste sono cose che capitano molto spesso. Ecco che da lì a quel punto è facile, perché io ho una chiave, una chiave legittima, il sistema mi fa entrare, ma a quel punto sono dentro. Come ci si protegge da queste cose? Ci sono dei framework internazionali per poter gestire la sicurezza. E questi framework sono, qua parlo dell'ISO 27.000, ma ci sono tanti, il NIS 2 ne ha formulato uno suo abbastanza indipendente. L'obiettivo è proteggere la confidenzialità, quindi evitare che l'informazione privilegiata diventa pubblica. Proteggere l'integrità, non solamente perdere l'informazione, ma fare in modo che qualcuno non possa alterare l'informazione. Spesso le frodi vengono fatte in questo modo. Io entro dentro un sistema gestionale, cambio un IBAN, nessuno se ne accorge ed ecco che ho fatto una frode finanziaria. L'ultima cosa è la disponibilità. Quello che normalmente la gente parla di denial of service, i DDoS. Quindi gli attacchi per bloccare. E quindi i sistemi devono abbastanza essere resilienti per gestire tutte queste cose. I sistemi di sicurezza, i framework, i quadri servono per identificare, come abbiamo visto prima, la porta è realmente solida, l'informazione è all'interno della porta, ci sono finestre, ci sono buchi nei muri. Tutto questo viene integrato. E il target di questi framework, l'ambito in cui si applicano, principalmente le persone. Identifichiamo le persone che hanno accesso all'informazione, chi è responsabile. Perché se ci sono mille persone che hanno accesso a un file, non c'è sicurezza su quel file. Ma raramente mille persone devono avere accesso a un file. Quindi va gestita. Principalmente le persone. Secondo i processi. Per esempio, l'email non è sicura per transazioni di alto valore. Io avevo implementato i sistemi per qualsiasi transazione di sopra i 100 mila dollari, tramite il treasury, grazie per l'email, ma mi attacco al telefono e verifico. Sei veramente tu che mi ha mandato l'email? Perché l'email può essere impersonata. Quindi ci sono questi processi aggiuntivi che servono per proteggersi. E all'ultimo c'è la tecnologia. Quindi è solamente la fase finale in cui abbiamo visto tutti quegli altri aspetti che uno va a vedere. Il firewall della Cisco è buono, il sistema della Camai è rigido, Apple e altre cose. La tecnologia è solamente una componente. Si tende sempre a focalizzare sulla tecnologia ed è naturale perché chiaramente i fornitori di tecnologia spingono la tecnologia. Ma tutte le tecnologie hanno, in qualsiasi momento del loro ciclo di vita, delle vulnerabilità e quindi tecnologia contro tecnologia è sempre un escalation. Per bloccarlo bisogna intervenire sui processi, sugli umani e soprattutto capire dove sta l'informazione. Adesso torniamo sempre a questa azienda, piccola mediempiesa, che gestisce sistemi telematici, informatici a centrale montato di Castro. Queste sono le tipiche frasi, si chiama cyber kill chain, la catena di attacco. La prima cosa è una perlustrazione. Si inizia a vedere, si inizia a capire prima di tutto qual è l'azienda, chi sono le persone che lavorano nell'azienda. E questo si trova tramite internet. Ecco, se devo fare una analogia, io so benissimo che quelli che mi attaccavano, per dire, se avevo un ufficio con quattro piani in un grattacielo da qualche parte nel mondo e non voglio fare nomi, due di questi piani erano risorse umane. Avevano i dossier su di me e su anche tutti i miei dipendenti. Perché da lì capivano chi ero io, figli, famiglia. Per l'ustrazione, capire esattamente come e chi gestisce cosa e chi ha i ruoli. E questa è un'attività di social engineering, non è un'attività tecnica, non è un'attività di scaping. E spesso viene fatta anche con persone fisiche che vanno in giro e che sono assoldate per fare. La seconda cosa è l'armamento. Cioè, una volta che ho capito come è fatta questa azienda, chi sono le persone, devo decidere come costruire l'arma per poter infiltrarla. La seconda fase è la consegna dell'arma, che tipicamente è un phishing. E' un'email apparentemente opportunamente scritta, che induce qualcuno a pensare che sia autentica e clicca. A quel punto che è stata consegnata questa arma, diciamo un pezzettino di codice, un software, si sfruttano le vulnerabilità. Ma che non sempre sono vulnerabilità, sono semplicemente, non necessariamente vulnerabilità di software della Microsoft. E' semplicemente che io ho messo un file in una zona dove non l'ho protetto. E' una vulnerabilità. Una volta che ho sfruttato queste vulnerabilità, tipicamente questo software si insiedia all'interno dell'organizzazione e da lì si distribuisce e costruiscono una specie di rete di comando e controllo all'interno dell'azienda. Quando i vari altri auditori vi hanno parlato del periodo, sei mesi, quattro mesi, da quando uno si rende conto, significa che loro sono già arrivati a quel punto. Loro sono all'interno del sistema informativo. Tornando sempre a questa azienda, sanno esattamente come la marca dei sistemi che stanno all'interno della centrale del montato di Castro e sanno come funzionano. A quel punto, quando vogliono, fanno l'azione. L'azione può essere prelevare un documento appena scritto sensibile, alterare, bloccare o, in caso di energia elettrica, cercare di buttare giù parte degli impianti. E se questo viene fatto sufficientemente, simultaneamente, in N centrali, io stavo al Munich Security Conference di due anni fa, anche quest'anno, prima della guerra, e si stima che in 15 minuti, se uno ha un attacco mirato, può buttare giù la rete elettrica europea. Cosa abbiamo fatto nelle Nazioni Unite? La prima cosa è gli audit, come ho detto prima. Bisogna capire dove sta l'informazione e dove sono le nostre vulnerabilità. La seconda cosa è che abbiamo concentrato sugli utenti, perché gli utenti sono l'anello debole. E basta poco, anche un semplice 10-20% di capacità di un utente che si chiede, e già abbiamo montato notevolmente la nostra resilienza informatica rispetto a raggiornare un software. Abbiamo fatto formazione, abbiamo fatto campagne anti-phishing, abbiamo fatto campagne, quello che si chiama spear phishing e whaling. una personalità importante, non mando un ammo, vado direttamente col fucile da pesca subacqua e sparo a quella persona. E se un VIP, si chiama whaling, è una balena, vanno direttamente dal pione. Quindi scrivo un mail perfetto per quella persona. E per i rifugiati abbiamo fatto autenticazione multifattore, e nel caso dei rifugiati noi abbiamo proprio un'autenticazione biometrica, con iride e impronte digitali, proprio per proteggere i loro dati in modo molto sicuro. La tecnologia è l'ultima parte, quindi abbiamo portato tutto su cloud, perché? Perché cloud sono più potenti. Abbiamo fatto tutta una serie di attività, monitoraggio con l'EI, intelligenza artificiale, perché la quantità di dati sono enormi, e poi abbiamo fatto tutta una serie di campagne di risposta, insieme ai nostri partner. Ecco, le considerazioni finali, poi lascio alle domande. La prima cosa è l'autonomia, la sovranità digitale del Paese. Perché è importante? Perché io conosco casa mia, e sono io quello che deve lavarsi i panni sporchi in casa, e deve mettere, proteggere la propria infrastruttura. e se io inizio proteggendo la mia infrastruttura, rinforzo tutto il resto del sistema, perché basta un anello debole per penetrare. Quindi è fondamentale avere controllo e conoscenza dei propri sistemi in modo completo. Formazione. La formazione è fondamentale, cioè gli audit sono previsti nel NIS, però hanno un costo, e forse lì bisogna fare qualcosa, perché fare un audit per una piccola impresa, già enormemente ha, migliora la capacità di resilienza dell'impresa. E il NIS, come ho detto, il NIS 1 già era molto buono, il NIS 2 è ancora meglio, prima di tutto amplia, ma soprattutto ha definito una serie di standard che vanno seguiti per fare proprio questa analisi. I CERT, i centri coordinati, li abbiamo fatti, li abbiamo usati all'interno delle Nazioni Unite. Il problema è che c'è un problema forte di privacy, e di trust, di fiducia. Cioè io ho inizialmente una resistenza a dire pienamente quello che è successo e condividere questo con gli altri. Ecco, se questa è un'autorità pubblica, tipo una polizia, è più facile, ma se è un'entità non parastatale o non con le autorizzazioni, ci sono problemi di privacy abbastanza difficili. Quindi CERT, sono una bellissima idea, ma più di tanto, oramai è la fine, oramai l'attacco è avvenuto, e per rimediare l'attacco bisogna conoscere bene il tutto. E quello è il tipo di informazione che spesso non viene condivisa. E basta un poco che non viene condiviso che poi fallisce il contrattacco. E l'ultima cosa, scusate non ci vedo da qua, scusi, la cooperazione civile-militare è importante perché i militari non danno nulla per scontato. Io ho fatto il militare a suo tempo e poi ho collaborato moltissimo con entità militari quando lavoravamo, perché spesso i rifugiati sono gestiti da eserciti o da strutture. I militari non danno nulla per scontato, quindi vivono la sicurezza in modo olistico, personale, fisica, e tutto quanto. Mentre il civile dà per scontato che c'è una legge da qualche parte e quindi alcune cose non le prende in considerazione. Il problema è che lo ciberspazio e la legge non esiste, perché la legge opera solamente a livello nazionale e quindi la mentalità militare per me è quella giusta per potersi difendere, perché io ho una mentalità e so che chi viene da fuori non è sotto il mio controllo. Ecco, Presidente, ho finito e quindi... Sì, già il prefetto Frattasi ci ha parlato della necessità di standardizzare la cybersicurezza militare e civile e noi ovviamente l'abbiamo interpretato tale affermazione come portare la cybersicurezza civile a livello della sicurezza militare. Quindi troviamo, diciamo, un riscontro nelle sue parole in quello che ci disse all'inizio del ciclo di audizione il prefetto. Bene, allora, passerei la parola al relatore onorevole Giordano Fratelli d'Italia. Prego. Grazie, Dottor Pascarelli. Allora, abbiamo bisogno di capire, lo stiamo chiedendo anche alle altre persone che si sono offerte per le audizioni, perché l'Europa è così tanto attaccata e diciamo, dato che ci hanno fatto tutti un parallelismo col Sud America che sarebbe l'altro punto particolarmente aggredito, se la motivazione è la stessa. Perché a mio avviso insomma, una cosa è essere attaccati perché si è particolarmente deboli, una cosa è essere attaccati perché si è particolarmente ricchi, una cosa è essere attaccati perché si è particolarmente strategici. Quindi vorremmo capire bene perché l'Europa è più di altri stati. La seconda domanda è una cosa che lei già ha accennato ma diciamo vorrei ribadirla perché come dicevo prima forse non è passato perfettamente noi siamo di fronte a una piccola contrapposizione ideologica nel senso che il centrodestra tende a ragionare sul mantenimento delle sovranità in senso più lato laddove possibile mentre viceversa normalmente il centrosinistra tende a pensare a delle eccessioni di sovranità sempre maggiori verso l'Europa. Ecco questo è un caso tipico cioè mi sembra di capire anche dalle sue parole che il mantenimento della sovranità digitale nazionale è una parte fondamentale della difesa può confermarci questo ragionamento o questa cosa è diversa in termini di sovranità digitale. Grazie redattore onorevole De Monte Italia Viva Grazie Grazie Presidente io ho qui una domanda a proposito non della difesa ma di individuare i responsabili perché abbiamo sentito da precedenti audizioni che abbiamo a che fare con vere e proprie organizzazioni criminali siccome da poco abbiamo trattato anche del terrorismo online io faccio un parallelismo si ricorderà su Al-Qaeda si diceva follow the money individuare prima il denaro per risalire i responsabili domanda è possibile risalire a queste organizzazioni criminali possono essere sconfitte oppure dobbiamo esclusivamente fare riferimento una politica di difesa grazie grazie De Monte onorevole Chiandiani gruppo Lega grazie Presidente partirò da una considerazione fatta poco fa dall'onorevole Giordano che condivido particolarmente chiaro che c'è una visione politica alle spalle quindi tema più che tecnico proprio politico a mio avviso e condivido noi viviamo in una stagione nella quale c'è stata molta tendenza ad evolvere funzioni e responsabilità rispetto anche a una consapevolezza che la nave se non ha comparti stagni e separati se entra l'acqua da una parte va sotto tutta quindi in questo senso se non abbiamo non ci siamo avventurati verso organizzazioni o strutturazioni che possono essere più fragili anziché più forti l'altra considerazione invece è squisitamente di quelle che se vuole che facciamo continuiamo in altro modo siamo protetti siamo sicuri cioè ci stiamo organizzando in maniera dal suo punto di vista sufficientemente efficace per contrastare il crime dall'altra parte partendo dal presupposto sul quale nessuno si riesce a scandalizzare che chi vuole fare il buco nel muro è in genere più maldestro più spregiudicato di chi il muro lo deve difendere perché non ha regole da rispettare ecco in questo senso c'è tutta una questione una vecchia storia sulla privacy sul diritto alla riservatezza dei dati sulle informazioni che temo spesso e volentieri vada a cozzare con la necessità di proteggere come dall'altra parte se metto a disposizione tutte le informazioni per proteggere c'è un rischio reale di invasione di campo anche laddove ovviamente non c'è da proteggere nulla ma è interessante diventa interessante guardare nel buco della serratura sono cose che si intrecciano so che il campo è estremamente largo e rischiamo anche di trovarci dall'altra parte della pianta della ciliegia cominciando a mangiarne una senza rendercene neanche conto però sono temi sui quali le chiedo una sua opinione grazie professore prego prego li prenderei in sequenza così magari l'ultima chiudiamo la diretta per poter dare le informazioni allora l'Europa o il Sud America più di altri prima di tutto bisogna distinguere ci sono vari tipi di attacchi ci sono gli attacchi per estorsione ai privati che non sono secondo me quelli critici sono truffe semplici il grande problema lì e tornando anche a una domanda sui responsabili è che a livello internazionale è difficile fare qualcosa ci sono centri in certi paesi dove ci sono dei call center che fanno truffe remote lì bisogna fare pressione bisogna costringere questi paesi ad andare lì sfondare queste collusioni con le autorità locali e arrestare questa gente questo è l'unico modo ma questo è per le frodi e sono spicciole il problema è che costano poco vengono fatti offshore e quindi hanno un grande impatto secondo me Sud America e magari alcuni paesi europei ha più a che fare con la cultura dell'individuo sa riconoscere una frode telematica crede che tutto quello che vede su uno schermo sia vero o una voce sia vera lì l'unica analogia che posso vedere tra Sud America e magari Europa l'Europa io la vedo invece proprio per terrorismo o scusi il cibercrimine di tipo industriale l'Europa detiene una grande quantità di proprietà intellettuale distribuita tra tante piccole e medie imprese che sono pienamente emulverabili e quindi secondo me il target è quello però quello che che vedo spesso nelle statistiche che si parla di ransomware che tra parentesi non è difficile difendersi basta fare dei backup su cloud ci sono dei sistemi che lo fanno in modo automatico si parla di denial of service quelli che invece sono veramente pericolosi sono i tipi di attacchi che ho detto io la gente non li scopre ma quelli sono pochi numericamente ma sono di alto impatto perché l'azienda perde tutta la proprietà intellettuale la sovranità la sovranità per me è proprio importante perché se io non conosco il mio ambiente non so dove stanno i miei dati non posso difenderli e quando ci sono troppe persone di fatto non c'è sicurezza quindi per me la chiave è che all'interno delle agenzie nazionali noi segmentavamo tutto quanto per me per assurdo la mia più grande preoccupazione è che qualcuno penetrava la rete di un'agenzia e tramite i miei data center passava in un'altra agenzia più sono le interconnessioni più è vulnerabile il sistema quindi questo è per me uno dei criteri per cui per me sovranità bisogna capire e conoscere brevi e proprietà ora è chiaro che tecnologicamente è difficile e ci sono delle economie di scala che chiaramente hanno i grandi cloud provider come Amazon Microsoft Google e altri e lo stesso non è che da un momento all'altro uno crea all'interno di un territorio nazionale delle strutture equivalenti sì teoricamente sì ma non necessariamente agli stessi costi quindi è un problema passo alla compatibilità ecco non so se era lei ho visto in una delle sessioni dove ha parlato delle ferrovie a scarto diverso per motivi esatto quella è per me è fondamentale il fatto che tutti usano sistemi uguali rende tutti più vulnerabili è un problema dell'economia però spesso ci sono delle metodologie per poter fare quella piccola modifica che rende che non permette la chiave di entrare non so se questo il costo del dato è il dato distribuito ecco una cosa che la gente spesso sopravvaluta è la capacità di leggere tutto quello che viene su internet faccio un esempio Facebook ha 70.000 dipendenti ha 3 miliardi di post al giorno tra Whatsapp Facebook e Instagram sarebbero 45.000 più o meno mi sembra post che devono leggere al giorno cioè avere accesso all'informazione non significa poterla leggere perché ha un grossissimo costo io spesso dicevo ai miei che è più facile pedinare qualcuno che trovare e riuscire a intercettare in modo dettagliato tutto quello che sta facendo con un telefono la quantità di dati prodotti è enorme uno dei miei problemi è che spesso le strutture che mi attaccavano avevano più fondi più personale di quello che io avevo per difendere quindi è vero che i dati possono essere pubblici ma è come cercare un agono impegnato bisogna avere una motivazione per andare a cercare quel dato e quella motivazione è totalmente correlata con l'importanza di quel dato quindi se il dato è importante o in caso chiaramente di cibernetica per effettuare attacchi di tipo militare chiaro si ottiene è sempre cioè io a casa non tengo i soldi li tengo in banca tornando al discorso prima della legge quello che mi evita che la gente venga in casa non è tanto il mio lucchetto è la certezza della pena che se viene preso viene arrestato il problema nel mondo ciber questo non esiste nel mondo internazionale l'anonimato che è possibile su internet come avere un mantello di invisibilità che rende difficile e non so se possiamo chiudere magari vi do chiudiamo la diretta e non so chiudere l'anonimato ioni l'anono invece link iscrivito Grazie a tutti. 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 Bene. Grazie a tutti. Buongiorno. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.